eccoci qua ue mazzino buonasera cladatore buonasera chat buonasera amici fatemi mangiare un attimo sti due cracker che mi sono rimasti buonasera buonasera a tutti ben ritrovati buon inizio settimana buon lunedì è lunedì oggi buon pomeriggio come la va buongiorno turi buongiorno matt buongiorno banditi buongiorno chat buongiorno amici di youtube buongiorno max allora ci siamo questo anno è volato ma solo gli stolti pensano che sia già finito per la del giorno buonasera cassanigno buonasera date buongiorno buonasera ma ti devo dire ti devo dire buongiorno buonasera davide buonasera cerbero buonasera gabiker allora signori tutto vero ormai ci siamo buonasera le quina cosa ne pensate al riguardo troppo presto ma come con i toz che risama i tuono cioè boh volato 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 quando esce fc25 allora secondo me tu parliamo di quello che succede venerdì buonasera amiche buonasera bulliano buonasera tommy buonasera pressino era meglio di averli a fine maggio ma il problema è che ci stanno gli europei essendoci gli europei devono per forza di cose anticipare però sono d'accordo comunque con te buongiorno uggdc buonasera buonasera ale buonasera a tutti chatte della bella allora 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 mi piace la mia toz community io ho non so perché ma ho una mezza sensazione che quest'anno i toz cambierà qualcosa ciao anonymous buonasera buonasera rich secondo me avremo qualche cambiamento non lo so perché ma ho ma ho questa ho questa sensazione eeeh 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 ho questa sensazione buonasera mauro buonasera tom allora 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 drop alto oltre a quello che secondo me è un must have cioè se non ci dovesse essere il drop alto ai toz è la fine non lo so allora già secondo me col fatto che ci sono comunque anche le i campionati femminili già quella è un'aggiunta che non abbiamo mai visto ma secondo me se la gestiranno in maniera diversa considerando anche le evoluzioni non dimentichiamoci che le evoluzioni ci permettono di creare comunque dei giocatori che sono forti mediamente effettivamente l'uringa prova che è passata le persone a giocare se la promo degli europei fa cacare come immagino penso che molti abbandoneranno no secondo me la promo degli europei non farà cacare la promo degli europei sarà come le fantasy sarà come le tuono molto più rapido ovviamente però non credo che farà cacare allora secondo me i duri tu dici stasera le votazioni non lo so allora secondo me venerdì non escono i toz esatto tommy secondo me venerdì non escono i toz buonasera giswazzo buonasera capitano si vatela così buonasera alex buonasera carons buonasera a tutti anche si i turi per me è veramente troppo troppo presto mancano ancora 7-8 giornate di campionato e ci possono essere rivelazioni poi comunque i toz ad aprire da pazzi per me i toz è come se chiudessero il gioco ma ormai non è più così però Gabby come gestirà la promo degli europei secondo me la promo degli europei sarà molto simile alle rttf le pat to glory vabbè pensiamo una cosa alla volta repudica casi esce brauer in realtà volevo farvi scusami volevo farvi il comando qua in chat ma oggi è stata una giornata mamma mia sì 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 sicuramente anticipano casa europeo però secondo me venerdì non escono i toz cioè per me venerdì non escono non esce il primo toz community secondo me venerdì fare vedremo e lo scopriremo mercoledì con una con una schermata ok io credo che venerdì vedremo un warm up esatto Gabby per me uscirà una settimana di warm up una settimana di riscaldamento una settimana di preparazione toz dove fondamentalmente faremo obiettivi sbc magari qualche evoluzione secondo te gaga con l'aso che ho trovato ieri sera può panchinare barcolà sì lo può fare qui c'è il 26 eh oddio tre settimane mi sembra cioè uno tre venerdì è tanto eh Max avrebbe più senso farli uscire il 19 fare uno due tre quattro cinque sei sette otto nove settimane nove settimane di cui fai cinque dei campionati top i community e gli ultimate e ci abbiamo sei due settimane di sti due team che boh si Gizuazzo però a quanto pare dovrebbero uscire venerdì ma Kanji faranno Vidic ci sta a fare Kanji Vidic FC24 cosa non fanno i soldini eh vabbè Bayek a noi di quello che fanno gli altri non non interessa proprio non capiscono purtroppo non so chi la sta facendo né tanto meno mi interessa non capiscono che continuare a buttare merda addosso al gioco fa solo allontanare le persone però vabbè i footis vabbè i footis agosto buongiorno Carlos Alberto Concordo fare buongiorno Brutelgordo sarebbe bello se facessero così mettono questa evo però 4-5 4-5 della stessa evoluzione oppure diverse così da evolversi questi giocatori magari in coppe fatte apposta che ti danno anche dei premi magari pure il warm up anche sì buongiorno Terlino ah io lo sapete cosa non ho controllato oggi perché non ho avuto il tempo per farlo non ho controllato se sul sul discord mi hanno risposto che avevo che avevo portato un po' di spunti interessanti ecco sì ok allora più che altro per la questione del aspettate un attimo ok allora per la questione dell'evo per la questione dell'evo scartate ste robe così io ho segnalato tutti i problemi che mi avete che mi avete registrato negli ultimi giorni negli ultimi tempi e sono mi confermano che sono al corrente di tutti questi cose e sono e stanno seguendo quotidianamente la 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 faccenda quindi vuol dire che probabilmente è un problema pure abbastanza pesante bel design sì infatti ciao andre buonasera buonasera zichi cosa esce stasera non lo sappiamo ieri purtroppo pure a persare le creature è stato detto a lesbis una cagata pazzesca il costo è troppo elevato purtroppo 1085 ma zi 2950 piccai con del pass ansioso di prendere questo ma perché le vuole prendere quel 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 robo ma allora più che altro ma stasera scade qualche evoluzione queste no 4 5 12 6 9 no ok secondo me sì andrew secondo me secondo me fanno un attimo mettono mettono un'altra serie di evoluzioni tipo domani oggi che giorno è lunedì forse mercoledì domani è mercoledì e poi fanno scadere la stagione forse una venerdì e poi fanno scadere la season ah non si sceglia ok i tot avranno il walkout ecchio sapo sa che si possa evolvere il mio zito colunbo inizio anno speriamo speriamo vediamo 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 un po' buonasera apolo iapo vediamo vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' allora io non mi ricordo ne oggi sono staccato ieri non ho loggato c'è un Lewandowski qua che chissà che cosa combinerà sto Lewandowski allora per chi non sapesse o non ci è mai arrivato ai tots che cosa sono i tots i tots sono praticamente come i toti ok ma per ogni campionato una squadra a settimana forse due anche del campionato femminile non lo sappiamo che io non so manco quando iniziano e finiscono i i campionati femminili una squadra a campionato a settimana con probabile mini release di tots moments che sono delle delle card che vanno a fiancheggiare la promo con un drop decisamente alto probabilmente ritorneranno anche nei premi della weekend league tramite pic rossi quindi questa questo colore qua e in più poi ci saranno obiettivi abbiamo visto evoluzioni e sbc a tema dedicate solitamente e io ve lo dico oggi e ve lo ripeterò tutti i giorni che ne parleremo questa è una cosa che mi sono proprio imposto anche per le esperienze degli due anni passati i tots partono sempre molto piano i tots partono sempre veramente sono un diesel sono una promo che non si vuole bruciare subito i contenuti golosi ciotti grossi all'inizio perché altrimenti uno tende a farsi subito la squadra forte e poi abbandonare durante l'estate in teoria Ziggy dovrebbero anche essere in accompagnamento con i campionati secondari quindi ad esempio fanno la Premier League e di fianco ci mettono la serie B inglese la FL fanno la Ligan e di fianco ci mettono la Bundesliga e no la Bundesliga la serie B tedesca sai ste robe così o un secondo o la MLS ci fanno la serie A e vicino ci mettono il campionato arabo sai ste robe così Bappé è più forte you can't see ma si ho visto ho visto la nuova patch niente di che sono robe sono robe di stabilità ho tolato Roberto Carlos faccelo tolgo Udoge allora ieri l'ho provato con Roberto Carlos a me non fa impazzire il terzino così piccolino quindi ci sta a tenere Udoge però provalo applicare l'Evorus ha un tozzo sculato e poi trovarlo dal pic ecco appunto Amobasio Cantona Cantona Tonali Evo nel centrocampo a tre con Rolf e Soga dove lo metto difensivo più offensivo più offensivo ciao santo buonasera si Mark Leo quindi è il primo anno che gioco fanno anche la serie B italiana allora ci sarà un campionato che non è un campionato vero e proprio alla fine e all'inizio quindi sono due che si chiamano Tots Community all'inizio e poi Ultimate Tots il Tots Community sono dei giocatori di tutti i campionati quindi anche la serie B votati in teoria ok che potrebbero far rientrare anche dei giocatori di serie B volendo tendenzialmente non lo stanno facendo però potenzialmente potremmo vederlo mentre durante il Tots Ultimate alla fine poi che cos'è il Tots Ultimate il Tots Ultimate è una selezione dei migliori Tots di tutti i campionati quindi fanno il Tots di Serie A il Tots di Premier League il Tots di Bundesliga il Tots di Ligana e poi mettono i migliori di tutti quanti in un unico team quindi ci sarà una squadra con Mbappé Messi Cristiano Ronaldo Bellingham Van Dijk con un po' come i Toti ok allora i most consistent never if in teoria sono i Tots community Alex quindi in teoria sono delle card che non hanno mai preso if ma che però sono molto hanno reso molto bene durante la durante la stagione ad esempio aspetta no sto prendendo gli oro gli if andiamo con gli oro gli oro rari allora di questi qua chi è che non ha mai che non è che non ha mai preso un if di questi qua Rodri Rodri per esempio non ha mai preso un if però Rodri c'ha una cosa come tipo 12 gol in stagione no De Bruyne ce l'ha un paio di if e Rodri è uno di quelli là che durante i Tots community esce sempre perché è uno di quelli là che gioca sempre bene durante la stagione ma che però non fa mai delle prestazioni tali da mettergli un if perché ovviamente non è che fa una tripletta che ne so Ruben Dias no beh Ruben Dias lo mettono sicuramente nel team nel Tots ad esempio l'anno scorso nel Tots community c'era tipo Bremer c'era tipo Bremer e non non venne messo in quello di serie A se non mi sbaglio Roberto Carlos come va non è male Kim Danilo vedi comunque ste robe così e questi sono e questi sono i più o meno i presupposti partendo dal presupposto che fanno delle cose uguali ma secondo me non lo faranno esatto alcune volte vengono rimessi tipo Kim l'anno scorso venne messo sia nel Tots community se non mi sbaglio e anche nel Tots di serie A che fu la prima volta dovessi riuscire a sbettare le zambe mettere la leva poi perdere i suoi poteri di Gona no 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 te lo confermo perché ce l'ho anche io qua vedi e puoi vedere che dà intesa a tutti i campionati ma basta nella squadra completa spenderesti tutto il budget per quel park al posto di SN Tots ci può stare lele si i due insigni del pass vale il migliore 5 skill l'opzione 1 amici buonasera Tommaso ma vediamo quindi i Tots sono ve lo dico ragazzi ve lo dico e ve lo ripeterò mettete prima ve lo mettete in testa prima vi godete meglio i Tots i Tots sono una promo lenta sono una promo che va al rilento sono una promo che comincia molto bassa come overall come Sats come o piede debole work rate play styles magari vedremo anche dei Tots community con solo due play styles per poi andare a vedere non credo per poi andare a vedere i Tots dei campionati maggiori con tre play styles si Ross the boss buonasera Luke io io credo io credo che ci divertiamo io credo che ci divertiremo perché alla fine i Tots per storia di questo videogioco sono sempre uno dei periodi più divertenti di tutti sono un periodo dove le ricompense di tutte le di tutte le competizioni sono belle è un periodo dove tutte le nostre squadre vengono cambiate allora tendenzialmente qual è il pattern qual è il pattern di modifica delle squadre va in base ovviamente ai contenuti in uscita venerdì esce il team il Tots di un campionato tra spacchettamenti vari e test vari almeno fino alla fine della weekend league dipende poi dalla SBC della sera si cambia forse la domenica poi la domenica vediamo come gestiranno con Icon e Hero la domenica potenzialmente si fa un bell'upgrade ci pensi che grazie a te arrivo per la seconda volta ai Tots considerando che FIFA c'è da una quindicina di anni ma ti seguo da due anni e mezzo mi sembra una buona media decisamente sì grazie mille per i beats e grazie mille anche per quello che quello che hai scritto veramente grazie mille i Tots sono un bel periodo sono veramente sono veramente belli sono sono una cosa che sono una cosa che secondo me non va non va non dico non va svalutata eh ma il gioco è finito i Tots venerdì 12 o 19 non lo sappiamo pacco dei Tots considerate i Tots come un dei Tots premier dai Michi è come il jam Michi lei non deve vivere nel futuro i footies sono una cosa in più ancora ciao ma buonasera buonasera Luca buonasera a tutti signori ve lo ripeto ve lo ripeto ve lo ripeto non partite già delusi da quello che vedrete per i Tots i primi 10 15 vi ricordate che negli ultimi due anni i Tots di premier sono stati sempre un po' una mezza delusione tranne qualche giocatore un po' quella tipo Cancelo Tots Haaland questi qua per il meta e poi i Bundesliga la Liga anche quelli di serie A che storicamente sono quelli che costano di meno poi ci danno più gioie il periodo preferito dell'anno di Ultimate Team l'inizio l'inizio è quello che amo di più degli Ultimate Team perché nessuno sa niente si devono fare le squadre da zero i giocatori nuovi gli overall nuovi secondo te conviene mettere Barcoline l'Evo Tecna Impare Giob e fermare a livello 2 così che non prende il press del plus ma diventa 5-5 e poi mettero nell'Evo attaccante atomico e anche quella fermare a livello 2 così prende solo la calamità potenzialmente si Tom e Ronaldinho pure non era male Andre per esempio e poi Barcolà l'ho messo nell'Evo 88 ma dopo i primi due step sul terzo e da boost alla difesa è rimasto anche 87 ho fatto tutto ok per poter rimettere e aspetta però il terzo boost è l'ultimo la Nike Toz pure era fortissimo sì qual era quella dell'88 libera il potenziale e se hai fatto già la terza se hai fatto se sei già arrivato alla terza non lo puoi fare più no Michi questo è il tuo primo anno di FC sono veramente curioso sì io adesso vi sto dando una prima infarinatura per quanto riguarda quello che secondo me basandomi sugli altri anni potrebbe succedere ma io credo che qualcosa viene cambiato un più uno Gabri spero per i foot mascher non esistono più mandata opera non ho ancora visto time Ma che cosa è questa roba? Ma cosa è questa roba? Madonna, santu Hulk, santu Iron Man Santu Capitano America Santu Batman Allora, signori, questi sono i render per scegliere qual è il cosplay che io indosserò al Comic-Con Wolverine spacca Lo voglio in loop sul mio telefono, eccoci qua Questi sono gli Ultimate Board Day del Santo, attenzione Questa è la promo Santu per Marvel L'hanno fatto le Hero l'anno scorso Non ci sta la parola, eccola È già pronto col costume da clown Ma no, nel tuo aspetto naturale è quello in alto a destra Sì, sì, no, questo non fa parte Mamma mia, ragazzi Mariano 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 ha Che hai Maria? Che cosa c'hai Maria? Che cosa c'hai Maria? Se volete sempre il parco non ho comprato e l'ho riscattato Ma il terzo sepp non l'ho comprato Ah, ok, a posto, Nicolas Il meccanico può fare il cdc? Sì Mamma mia Mamma mia, mamma mia, signori Mamma mia Ah, ne arriva un altro? Aspetta, ogni volta devo cambiare la cosa Perché non fa Non mi fa avere due sessioni aperte di Telegram Che malattia Mariano è l'arte Mariano Sì, sì, qua ne arriva un'altra patch Anonymous Ma non dovrebbe cambiare nulla Cioè è una patch di sistema tipo molto chill Sto mangiando Il vestito rosso è il cosplay del Comic-Con Va bene Sono pure dinamiche, capiti? Danno pure quella sensi Quella 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 Quel movimento, capite? Non è Non è vero Se non era per quel baffetto Mi ritrovo questo appena entro Guarda Allora, alcune Alcune sono pure Cioè, capito? Sono Santo diavoletta Bra Madonna mia Ma non è che lei nel tempo libero fa la drag? Qual è il tempo libero? Avessi tempo libero? Ti posso dire non male Eccoci qua Prima di Santo La bella addormentata del Santo Sant'Urento La Sant'Unie Vesette John Mariano puoi osare ancora di più Io sono sicuro che Mariano nel suo privato Faccia dei fotomontaggi E dei videomontaggi Con Con anche applicazioni Più 18 Con la mia faccia E quella di John Sono sicuro di questa cosa Sì Giuse Ma non è niente Non c'è niente Censurati Ma ci sono Ma ci sono sicuro Bra Esatto Mi ritrovo bene insieme a Johnny Sinz Ho capito Io sono sicuro che Mariano Secondo me Qualche Coppati Secondo me No al deepfake Assolutamente no Ma com'è No al deepfake Alla fine L'evo libera potenziale Ancora bisogna aspettare Sì A questo punto sì Ma Allora signori Dopo aver disintegrato E Grattugiato Il nostro quotiente intellettivo Dopo aver visto queste magnifiche Magnifiche Opere d'arte Di Mariano Dopo aver dato i miei connotati Facciali Ad app Proprietarie Asiatiche Dopo aver disintegrato Le vostre Giovanimenti Eh sì Banditi a voglia Anche oggi Diciamolo insieme Le campane hanno già suonato Non so se le avete sentite Stiamo aspettando L'orario Più bello Delle nostre giornate Signori Signori Anche oggi Di lunedì sera Diciamolo insieme Sono Le Diciannove Sono le Diciannove Sono Le Diciannove E vediamo Mamma Iei Cosa Ci ha Droppato Allora Vediamo se c'è qualche giocatore interessante Non credo Di lunedì Cenzig Cengiz Under Ok Lo desideravo proprio Aggiornamenti Allora Campagna misto No Grazie per la samba Questo no Grazie mille Warrior Ottavo mese Per mai di voi Grazie mille Per l'ottavo Mese Bentornato E punto Esclamativo Gruppi Mamma mia Allora Sono usciti Dei pic 83 Più Ripeti Cinque volte E dei pic 80 Più Molto bene Igon Non credo Ovviamente Di lunedì Ma che Dele Riberi Agi Begham Essien Ronaldinho Shevchenko Quei pic Schifosi 83 Vediamo se è uscita Qualche evoluzione Sto vedendo se Sto vedendo se Il bot Sta spammando Roba Non credo Però di lunedì Evo Non credo Proprio No infatti Ok Allora signori Allora signori Come showdown Non le ho viste Signorine showdown Non sono uscite Dove sta Negli incontri Principali Dove sta Eppure bugato Il menu Raso Del Real Madrid Showdown Conociunque Schifo L'opzione 1 Padillac Vuoi sapere Come fa il mio Irrigatore Alle 19 Così Ma raso Non è uscita Mo Luca Ma la raso È uscita Tipo Ma Luca Questa è uscita A dicembre Luca 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 No non lei Stavolta Luca È arrivato Il momento Di togliere Internet Explorer E soprattutto È il momento Di non entrare Mai più Alle 19 Su Footbin Su Footbin Alle 19 È il vostro Peggior amico Per controllare Cosa è uscito Sul gioco Allora signori Andiamoci a spammare Un po' Di questi picchettini Perché vorrei Trovare Un Un Drogba Onesto Cosa richiede Sta rosa Tana Due rose Due rose È sempre il buon momento Buono per incolpare Calatore Assolutamente Sì Allora Crescente Oro raro Sulla stress E Kirkberger Non vedevo l'ora Di mettere Sulla stress Kirkberger Crescente Tissuadile E Kittiché Dituro Mateta Mucodi Grbic Roskioskioski Sabato E Bushan Non si preoccupi Signor Luca Vada tranquillo La rasola Più popolare Sul footbin E vabbè Magari Boh è successo Qualcosa Irl Che sta rasola Succede spesso È che quando Quando Quella Quella giocatrice Fa robe Nella realtà Poi Viene popolare Sul footbin Ma popolare Sul footbin Non significa Che è appena uscito Eh Non c'è niente Sono usciti un po' Di robetti Il lunedì è così Regale Il lunedì È Il lunedì È pack È pick Pack Foderingham Ghilavidu Ghilavidu Calvash Dendoker Del Napoli Ma Dendoker Ha giocato Qualche volta Nel Napoli Quello 5 skill Odio L'opzione 1 Quali tipo Di cose Eeeh Tommy Quel change Zunger Sa negli obiettivi 21 minuti In total Grande acquisto Grande acquisto Allora signori Vediamo questo Pic 83 Più Bello Molto bello Ma sì Mirko Lo vuoi provare Under Eeeh No Hai trovato Drogba Molto bene Chi è che ti ha Stoppato Vidic Ti ha droppato Vidic Chiede una rosa 81 E vabbè Raga Ma fatevelo tutti Una rosa 81 Ma che Che deve Devo provare Una rosa 81 Giocatore Per una rosa 81 Che cazzo Mi provo a fa Bono Un 84 Più dell'83 Infatti Sì Una rosa 81 Con if Oh wow Saul Coco Carrasco Oro comuni 81 Più if Allora ragazzi In modo vedete Un attimo Comprendere Che fino ai Toz Ci sarà Un momento Di Un attimo Di pausa Ecco Un attimo Di stallo Un attimo Di chill Un attimo Di Opere Di Marigliano Eccoci qua Warrior E' successo Che quando Ho chiamato Il content creator Di Footbeam Stamattina Ho detto Raso Il mio prato Ed è passato In quel momento L'irrigatore E allora Non ha capito Niente E l'ha messo Nei popolari Mi ha fatto andare In Il cervello Signori Grazie per i Beats Warrior Signori Invitatevi un po' Per questi picchettini Dai che se Sculacchiate Poi Facciamo qualche Cosa meme Spiega tutto Esatto Ma Luca Luca Non è lei L'operatore Di Footbeam Che ha messo La raso Non ci posso Pensare Il Fenerbahce Che è in Rivolta Altrimenti Sarebbe una Bella Car Ah è vero Undere Del Undere Del E del Fenerbahce Però in Rivolta Contro Nel Nel Campionato Nelle Coppe Europee E da Modo Tommy Piccai con Va bene Lo stai Tutto quello Che volete Farmi Aprire Pure Le vostre Madri Raga Come Undere Buonasera Snappo Addirittura Un W86 A Faccero Cazzo Come Dicono Qua In Val D'Aosta Raga Raga Genaro Quell'uccellaccio Del Malaguro Di Bonucci E Tac Salutiamo Bonucci Che ci segue Sempre Si piccottante Adesso Sono un Megascam Sì Sono d'accordo Con te Andiamo a vedere Si piccottante Cosare Come Iniziare Mbappé Ma Mbappé Non c'è Esbi Sì Michi Come Ti permetti Di prendere Delict E non Barella Che Uno vale L'altro Allora Andiamo Un attimo Così Oro Crescente Allora 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 No Questo Veliz Non lo voglio Buttare Perché Questo Veliz Paschirotto Ma no Ve lo ricordate Sto Wood L'anno Scorso Che lo Fece lo Difensore Centrale Sto Wood Balodelli Sono andato Oggi A giocare Ci sta Qualche Evo Da fare Assolutamente Sbc Manco Da due Mesi Allora Ci sta A fare Sicuramente Cantona Socrates Prima Socrates E poi Cantona Come Evo Come Evo Vai Vediti Vediti Il video Su Youtube Fai Prima Vedere Il video Su Youtube Punto Scamativo Evo Che faccia Sto E Infatti Credevo Di aver Avviato Una live Di 5 Mesi Fa Ah Ho capito Adesso Amici Ho capito Solo Adesso Fammi Un po' Civic In prospettiva In prospettiva Quasi meglio Di quelli Di quelli 83 Più Fammi Cambiare Un attimo Il titolo Della live Allora Eccoci qua Allora potenzialmente Come sto Debruine Flashback Signori Potenzialmente Questi picchettini Potrebbero Anche essere Interessanti Per farmare Robbe Per farmare Robbe Per i Toz Lozzo L'ho consigliato Nel video Weidob E L'opzione 1 A cacetto L'opzione 1 L'ho controllato 750 Volt Non ho Voglia Manco io In realtà C'ho tanta Voglia Di farmi Sti pic Ti devo Dire la verità Buoy Sick Buonasera Un minuto fa Erano 81 Più Pacchetto 784 Kakà Dei Zaili Sono saltato In aria Ah Viene dal Medio Oriente No Scherzo 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 Ragazzi È una gag Infelice Va bene Max Non hai mai Trovato Nulla Vai Vai Godox Quando vuoi A te Manco Bastone Ti dà Ho fatto 6 volte Questo pack E non mi è uscito Mai niente Un doppio 80 Dove lo metteresti Si hanno scolato Da un 784 Va bene Va bene Che tristezza Questi lunedì Erano molto meglio Quei lunedì Dove bisognava Seguire le live Dell'EA Per un pacchetto Oro premium No mi scoccio di rialzarmi Tade Panni Natasha Mi ha inviato a una festa Poi scadevo PSN Golox Tanto 82 Sono le carte Che più servono Nelle SBC 83 84 Infatti oggi Sono andato in palestra Infatti Sono stanchissimo Domani Ci vado di nuovo E mercoledì Ci vado un'altra volta 1085 1085 Magari Da prendere Stoccare Lì E Aprire i dots L'Evo lasciate scadere E messe in altre Funzionano Vito Ho fatto un tutorial Su Youtube Punto Scamativo Evo Io picco Quelle E non io I doppio in 83 Ruben di assoluto Beh Santo bodybuilder Si appompa malamente Mamma mia Raga Ma vedete Che ho dovuto Allargare la webcam Non Ho dovuto Allargare la webcam Non Non c'entravo più No Ma si Andre potenzialmente Si Non l'ho provato Però potenzialmente Si Arrivo ai golox Non entro più Nella Nella webcam Dovrebbero arrivare I tots Però non c'è nessuna Cosa ufficiale Nick Bene Ok Il mio personal trainer Regi schianto L'avevo notato Attendo che poi Devi allargare Pure la porta Se non Entri No no La porta L'ho proprio tolta Adesso c'ho un buco Nel muro Bene Bene Signori Signori Quattro pic 83 84 84 85 Ciò a meni Predestinato Io non hai nessuno Manco io c'ho il personal trainer Ragazzi il mio personal trainer È Padillac Sì Sodden Vediamoci un film Facciamo Facciamo Cosa condivisa Su Amazon Prime Su Prime Video Quando il video con le migliori evo Interrotte con il metodo che hai spiegato Quando il video con le migliori evo Interrotte con il metodo che hai spiegato E allora In realtà Quello è un Quello che richiedi tu Rossic C'è un video che andrebbe fatto Tra dieci giorni Una settimana Perché adesso L'evo Oh L'evo che ci sono ora Non sono Fattibili Con 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 le interruzioni 3.7.000 Che faccio Aspettare Totspool Tanto hai l'altro Molto bene Allora Dato che ci stanno i pacchi bronzo Qua Poco c'è da fare Allora Andiamo dal Gladiator Signori invitatemi un po' Ravidiamo un po' Questa serata Con i Pix Una evo scaduta Per quanto tempo Può rimanere da riscattare Per sempre Fisichella Andiamo dal Gladiatore Signori Berbatov Arabo a destra se corri Tua moglie è entrata in camera Gridando grazie per la samba Grazie per la samba Diciamo che siamo subabonati E però è grazie per la sub E grazie per la sub Cioè grazie per la sub per l'abbonamento Non per la samba Però va bene, però va benissimo Va benissimo, va benissimo Già è un ottimo risultato Grazie per la samba Io non mi muovo da questa sedia Dal 1946 Dal 1946 Pure Federica mia moglie Me la canta sempre Allora ma vi racconto una cosa Non ricordo se era l'estate scorsa O due estati fa Meglio James Luca C'era un Un ragazzo che era uno dei miei abbonati Storici, uno dei primi Abbonati, che c'era un fratellino piccolo Ok Che si guardavano le live insieme ogni tanto Comunque vennero a Napoli con la famiglia E mi dissero Qua vicino Ah non ci interessa Vabbè allora non lo dico Apriamoci picco con 83 Volca Ok Belli questi picchi ragazzi No Ah lo so, lo so che scherzi No allora praticamente arrivò Arrivò in piazza qua Perché mi voleva incontrare In piazza qua vicino casa mia E la mamma Erano tipo le 10 del mattino Le 11 del mattino Arrivò cantando Grazie per la sub Grazie per la sub Grazie per la sub Tutta la piazza così Ma come Romagnoli Eh certo Perché mi diceva che Il figlio Ogni tanto In mezzo alla strada In mezzo alla casa Cantava la canzoncina Della mia sabba Alla fine il jingle Alla fine il jingle È anche orecchiabile È appena dato Lookman È ancora disponibile Con la Super Evo Mu pare di sì Dove la posso trovare Al supermercato Alla Lidl No scherzo Non ricordo esattamente Quali sono i passaggi Per fare quella di Lookman Ti devo dire la verità Credo Quella 99 di tiro Orecchiabile Per i non udenti Ho capito Di provare quel pulscast Eh lo so Lo so Grazie Vorrei avere i beats Grazie per la sab Grazie per la saeab 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 Per la saeab Grazie mille Wow per i 10 bittini Ti vorrei dare i miei soldi Ma non posso Come non puoi C'è sempre un modo Cocco Non va Devo mangiare stasera Vabbè ma con 3 euro 3 euro la sub Non ho più 81-82 Sto facendo un botto di pick E 7-84 Non ho capito se walk out era oro E' il saluto walk out buggato Che mega trollato Perché non facciamo un'altra gara Un'altra gara di beats Un'altra gara di beats come l'altra volta Ma che c'è praticamente Un cazzetiello storto da fare Ma ci andiamo a fare un po' la weekend league di max Proprio per rinfrancare le nostre giornate Non so più dove infilarmi le 84 Ma guarda Eddie se contatti i padri L'acletti da un posto sicuro Dove infilarti le cose Buonasera ve le suono E di nuovo Sempre Forcodio TSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTS Guarda Valelac Io le devo fare i miei più sentiti complimenti È davvero complicato invertire la T e la S Le faccio veramente i miei più sentiti complimenti per questi beats Sogres motore Allora vediamo il buon Golox Golox che mi fa venire fame Perché mi ricorda il posto dove siamo andati a mangiare l'altra sera ST 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 Ah scammata Oh compagni doppione Glopazione 1 Alec Porco odio Porco odio Manco la bestemmia dici Grazie per il beats Grazie per il beats warrior grazie cocco santo ti vengo a prendere ho acceso il motore del mio ciao salta in sella oh allora raga vi devo chiedere di fare una cosa dovete aggiungere le mie frasi ai blurp e vabbè golox un po' di pazienza c'è da sistemarla un po' sta squadra però comunque non è male grazie mille signor golox e andiamo da Tadeus vuoi venire a vedere come innaffio il giardino con il mio irrigatore poco offensivo bravo va bene un gioco un gioco volto all'attacco padelac dovete mettere le mie voci sui blurp dovete mettere le mie voci sui blurp e così potete spammare me che urlo il cane e io devo accettare vabbè io li accetto avrei 18 battute da fare sull'ultimo bit scrivete in privato e appare l'account di preoccupare esatto volo esattamente finalmente sono riuscito a risolvere la chat di twitch che mi andava in loop il problema era che finalmente sono riuscito a risolvere la chat di twitch che mi andava in loop il problema era che finalmente sono riuscito a risolvere la chat di twitch che mi andava in loop mi sa che mi sa mi sa che il problema non è risolto mi sa che c'è ancora qualche problemino mi sa che non è ancora risolto non credo che abbia funzionato l'assistenza molto bene la ringrazio per i suoi beats e vi faccio anche una bella betta su quest'icon di Tade avvia il pronostico una di tre icon tuono, jolly, totai, steve del futuro allora 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 almeno un brasiliano si no vada almeno un brasiliano brasiliate date il premio nobel e ma credo che il premio nobel ce l'abbia già da abbondantemente tanti anni vado chavi e zola e fu così che il ragazzo trovò l'audrup jolly a destra l'audrup jolly a destra ieri abbiamo fatto la chiamata con la m con l'audrup al centro allora raga mi sto addormentando ho sonno sono stanchissimo io dico che qua c'è chavi toti never e fernando torres Giò ho trovato la mia vecchia vespa Senti come sgasano Scusa è un po' ingolfata Ora la aggiusto io Ora funziona Però ti posso dire che a me Mi piace di più il suono del Rispetto a quello del Mi piace di più il primo Quando c'è la R C'è Rivaldo a sinistra Quanto ci scommetti Non lo so chiediamo a fagioli L'irrigatore è top L'irrigatore è un marchio di fabbrica Di warrior E' uscito dalla deviatama Di warrior Però mi piace questa Mi piace questo rincoglionimento Con i bits lo sapete E' una cosa che mi aggrada Voi vi divertite Mi diverto pure io Criticatore ma ci fatti Molto bene Poi Max non so se mi stai ancora ascoltando Tra un po' ci andiamo a fare qualche magica partita di weekend league Colpa di Padilac Ovviamente si punta sul sì Ve lo dico per esperienza Ci disse R9 più R9 total E' meglio E' meglio Giewel Che NLIA Eh lei ride DJB Lei ride Lei ride Fate punto scantivo Blerp Signori Punto scantivo Blerp Trovate le cose più belle del mondo Ve lo giuro Raga Punto scantivo Blerp Undere top player Uff Non si sa Andrea Li vuoi quei Giewel A me non piacciono i Giewel Lo sai Una bella VL di lunedì sera per migliorare il morale Bra esatto Usate i Blerp Raga che ecco I Blerp I Blerp Partono cose Clamorose I Blerp partono cose clamorose Perché i Blerp sono degli audio Di altre persone O dei sound Già caricati E potete caricare anche le mie di voci Sui Blerp Cioè io che urlo Il cane Ho tutto quello che volete E va bene Signori Dall'alto di questo mio gigantesco sbadiglio Eh li puoi caricare tu Paul Posso tenere una mano per il centrocampo? Ma chiedi pure DGB Senza problemi Mandami pure la foto Se vuoi sul PSN Senza Senza problemi Vai tranquillo Allora signori Abbiamo un icon E qua Ma io posso fare una cosa Scusatemi Ma io voglio fare questa cosa Perché A me le cose malate Mi piacciono Scusatemi per il volume Che io non lo sentivo Non so se più Se mi piace La fregna Dopo sta roba Eccoci qua Hai visto? Abbiamo fatto la nostra opera Di bene quotidiana R9 E' più forte Di Vampersi Allora io il piccolo Ho aperto sotto Guarda Trascino un po' sotto Sperando che Oltre Ho sbagliato Sperando che Oltre all'immagine Se trascini Qualcos'altro Sono le mie sorelle No sono io In cosplay Allora Nessun doppione Allora Iniziamo Da quella di sinistra Mi stai quasi facendo Tu Esatto Hai visto? Questo era l'obiettivo Allora abbiamo 84 di vil Chissà se queste Queste Santusignorine Come dire Attrarranno Attrarranno Eh? Mi rassentate un attimo E sono tornato Che c'è un content Qua siamo dei veri Content creator Luca No la bet dopo La bet dopo L'azza L'età Era Dodo Park Con la roll Vierà 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 È troppo forte Dovessi fare centrocampo A 3 89 di intercetto 88 di dribbling Ok Ok Ci sono alcune Che senza buffo Sotto e mezzo Punto bra Esatto Amo base Falco Ma chi è questo? Povero giù In questo momento Sto in una fase Rem Totale Ti fa la parte Nel tronco Di spade Il logo Mettiamo le signorine Santu Ed esce Sedorf Sarà un caso? Io non credo Eccoci qua 75 di fisico 43 di difesa Se ci fosse Adriano Tra le Aigon Davanti a questa Tanzia di dubbia Femminilità Sarebbe Tutte e tre I pick Ah ecco Resistente 79 Ottimo Che giorno è oggi? L'8 aprile 92 di controllo Palle Oh è loco Ariano è un genio Il salto davanti Sulla qualità dei contenuti È epico L'hai visto? Il parbono Il parbono Non è più nel gioco Oh bello Che playstyle ha? Ragazzi Ragazzi È tutto Dannatamente Calcolato John che ne pensa Di queste immagini Che sta vedendo A schermo Oh ho sbagliato 90 di fisico Attenzione 88 di difesa Stavo vedendo Pure prima Stavo per rimanere Sotto al bilanciere Ah eccoci qua Marona Padilla Ha scioppato Attenzione 81 di dribbling 84 di passaggio Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma pensavo fosse tipo Mataus Però Mataus C'era tutto 90 E pazza Mi ricordo E lo sai Qual è la cosa Che mi fa ridere Di più Che l'uvero Il più alto Delle tre Ce l'ha Una card Uscita Natale Bello Arrivo Piccoli ludopatici Della bet Arrivo A pagarvi La bet Non vi preoccupate Vabbè però Sanchez Messicano Vicino al Brasiana Pago il Sire Rimettendo Che ho già visto Il tuo video Su Youtube Volevo fare Questa osservazione Domanda Ma se mettessi Barcolà Nella sfida Che da 5-5 Tecnica impareggiabile E faccio solo I primi due livelli Grazie per la sub Grazie per la sub Buonasera a lei Signor jogger Grazie mille Per l'ottavo mese Bentornato Grazie per il prime Punta scantico gruppi Solo i primi due livelli Senza riscattarlo In modo tale Da non dargli Il playstation plus E poi Lo vado a mettere Nella sfida Attaccante atomico Dici che potrebbe Rientrare Diventerebbe un barcolà 5-5 Con 99 di tiro Se le stats Che hai controllato Rientrano Sì Però devi vedere Anche le scadenze Di 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 tempo Quando scadono Le Le evoluzioni Grazie ancora Jogger Bello mio Dove sta la seretà Dello streamer Under Non si prova Allora Io gioco sempre Over Snappo Quando vedo Under Ha già controllato Le scadenze Allora Se le hai Allora Io non ti voglio dire Sì perché Non l'ho visto Ovviamente Però se Tu hai controllato E Ti sei assicurato Che va bene Allora sì Vuoi Francone Buonasera Ah Francone Lei Lei si è perso Un contenuto Epico Benvenuti Sul top of flop Stasera si prova Under Signori Ma tu non ce li hai Questi pacchetti Ah sì ce li hai Mi scusi Pade Lack Ma ci metta Ma ci metta 150 FC points E si compri Questo Sicuro Che ti sei perso Ti sei perso Un nascondino Con Questo Questa era L'immagine Video Che Nascondeva Le nostre Icon Dalle vostre Grinfie Cacciate i soldi Che piangete Sempre Ah Preferisci Tre pacche Allora signori Padillac Vuole Un 15 Attaccanti Con 85 Più Tutti 80 Di tiro Con Pre tiro 85 Garantiti E a sinistra C'è quello Da 500 Yes 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 È una serie Di game of Santu No ragazzi Questo È Il Nuovo Allora abbiamo Fatto una Collaborazione Futur Universale Della giusta Questi sono I personaggi Che appariranno Voi l'avete visto in anteprima Nel prossimo video di Ale della giusta Dei Massaggi Con Happy ending Quelli Sono Tutti Diciamo I miei impieghi All'interno Di questi centri Che io Gestisco Se volete Saperne di più Punto Esclamativo Cocking E Avete tutte le informazioni Al riguardo Allora Signori Ho trovato Puskas In quale ruolo Vuol rendere meglio A D A S O A T Meglio A T A Prima di Fanz In realtà Il mio A di Fanz È già aperto Signori Ho mandato Un'opera Che voleva John Un'opera Quale punto esclamatioide? John sta bene su tutto In realtà John è il coniglio Peggio film di orrore Sempre l'iudio Questa è una foto che è tuo padre 30 anni fa Questa Ma sai che John stile anni 70 ha un nonso che di affascinante lululù Ma io credo che sia molto simile a come è adesso Ho sputato la pasta Punto scato di OPSN vele Vele suono Vedi dopo aver perso i crediti come si è ridotto Questo è John la sera sopra il bancone Ubriaco Che dice al barista Per favore Dammi un altro Un gin lemon Al sapore di crediti E il barista dice no Basta sei troppo Devo fare la compravendita Per prendere 92 milioni di crediti Che mi hanno Sbiascicando Tutto quanto Tutto quanto Smascellando Con la bavetta Con Tipo i fantagenitori Che gli girano in testa Però a forma di Monetine Di Ultimate Team Eh? Ma come sembra La normale audio di John Senza il per due Ho trovato quel sorcio Di mancini con la bandiera Dove lo metto? Sempre l'audio Sembra quello di Ciao Darwin Chi è quello di Ciao Darwin? Paolo Bonolis Allora signori Padilac Si è stuccata 1750 FC points Alla ricerca Chi vuoi Padilac? Non vuoi Drogva? Ma che le le sien Qualcuno Spam Ma ho tanti opinioni Che aspettano Ma farei sien Tra i due Però io ti dico Di aspettare I toz Leggi per piacere Ho la ludopatia Devo aprire il pick Che è successo? Golox Arrivo subito Arrivo subito Ho visto il party Gradiresti Drogba? Si si ho visto Ho visto Golox Ho visto Non è male Alec Però aspetterei Costa 200k ormai Let's go Aspetterei Alex Nell'uno e nell'altro Al momento Messi? Messi! 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 Mercato la sigaretta Sulla tastiera E digitato nel posacenere Molto bene Messi e Lewandowski Ok Doppio if Bene Io è uscito il kin-kin Doppio kin Mi fai l'ultima sfida Falla tu, falla tu che c'è ragazzi che stanno aspettando Il logo Falla tu un attimo Falla tu un attimo Perché c'è ragazzi che mi stanno aspettando La vado da Golox Golox Che ci ha detto che è partita la ludopatia Signori Nell'uno e nell'altro Tutto tutto Golox Signor Golox Go 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 Lo 3,87 Andrea La vogliamo la review di Under Alla ludopatia che non si sfugge mai 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 No Jenny Sì 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 Golox controllo io Allora signor Golox Io vado Dritto spedito Perché so che lei vuole trovare Lucio Non male Non male Ci potrebbe stare Ma è un top sto Marchisio Questo Go 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 Mi ha ricordato qualcosa che ho avuto Ma subito dopo il coaching che hai fatto con me oggi pomeriggio Dio santo Vabbè dai non è male Marchisio No Ah ecco Prendi lui Ah io ordini capo Allora signor Golox Io la La ringrazio per questo contenuto Goloxo Ci faccia sapere se ha bisogno di altri Sfoghi di ludopatia Andiamo da vele suono 1983 Grazie a lei signor Golox Attivi quel prime Attivate il prime Che è gratis Che mo lo tolgono E mo non potete fare più la sub Ma se non ti interessa questo team Goloxo Si stenazzi Punto scantivo prime Forse il venerdì Sarcio Cazzo dici Eh vedi Tommy Come lo tolgono Allora vediamo un po' cosa ci propone il buon vele suono Socrates Paul Oh Socrates Cantona Vediamo un po' cosa ci propone il buon Vele suono Dai non sparare cazzate Ti prego Adesso come fai a Sabbarti dal tuo trader preferito Io non capisco due tipi di persone Quelle che non si subbano Nonostante abbiamo il prime E quelli che lasciano i discorsi a metà Anche perché poi succede che Che succede? Che cosa succede? Che cosa succede? Quando fai la risatina assomiglia ad Edoardo di Marefuori Non ho visto Marefuori Apro il pacchetto da 2000 FC Points Oh sì Cosa è uscito stasera? Una parola Che inizia con N La seconda lettera è Ho visto il video dell'Evo Interrotta Fammi capire meglio perché la prima volta che le faccio Ho fatto il livello 2 di una sfida E devo riscattarlo Oppure non devo riscattarlo Anche quello che nel livello 2 Aspettare che scadesse Se la Evo ha 3 livelli Devi riscattare fino al secondo Se la Evo ha 2 livelli 2 livelli Devi riscattare solo il primo Nessun contenuto O è meglio quello da 3000 Aspetta Quale è quello da 3000? 5085 Secondo me è meglio Un cieco entra in un'orologeria E chiede all'orologiaio Scusi mi può sistemare l'orologio? Non vedo l'ora Ah ma raga amichi Non è raga da due Ok quindi riscattare Il secondo livello senza completare Il terzo E aspetto che scada la scadenza Esattamente Arizzi Molto bene Molto bene Continui così Le faccio i miei più sinceri complimenti Sembra che mi stanno decapitando Ma perché tu hai mai sentito qualcuno Che è stato decapitato? No Rossiccio Non c'è il minore necessario Sì Ah molto bene Allora signori abbiamo un pacchetto da 3500 Fica points E' un pacchetto golaso supremo garantito Non scambiabile Contiene un oggetto icona O Iro golaso Con valutazione 89 più Ciao Luigi Oltre a 50 oggetti giocatori oro rari 85 più Dico i due Con valutazione 87 più garantiti E in più Per non farci mancare nulla Ti regalo anche Tre scelte Giocatore icone O Iro golaso In prestito Un black and decker Per aggiustare i mobili dell'Ikea Il coltello che taglia super affilato Un set di pentole in uranio impoverito preso direttamente dalla centrale di Chernobyl Una bomba E padillac A bici col cambio a Shimano Un servizio di piatti Da rompere Dopo aver averto questo pacchetto Ce l'ho il coltello super affilato Stavo parlando un po' mentre gioco Che cosa stai facendo? Le battles? Non credo di averla consentita Vabbè ma non credo che alla chat ti interessi il tuo consenso Il 2983 più O il 3787 Allora Santi Non esistono le card overall 983 Né tantomeno le 787 Però A occhio e croce ti direi il 2983 Comunque le card di overall 983 è tanto 387 Santi Come Giacomo finale è la stessa roba che ha preso lo stream su GTA prima di partire con la live Allora prima di partire con la live Ho mangiato 5 mandorle 1,2,3,4,5 E ho mangiato un pacchetto di crackers Integrali Perché Tommy Vi faccio partire una bet Quanto erano grandi le mandorle? Così Esce Cacà Cosa? Gentilmente dopo la prima fretta è mia che devo finire fare la roba per dopo Padre la clenum mi dice quello che devo fare Ma come è vattanza Scusimi Mi scusi Dopo aver visto questo Lei ancora questiona questa cosa Difensore centrale Edoardo Ah ma tu parlavi delle mandorle Del Parlavi delle mandorle dei crackers Forse Fattanza Da quando l'hai fatto ascire dalla cantina si è montata la testa Infatti sì Rossiccio Proprio in gratitudine totale Crackers della Molino Bianco No 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 Sono della Doriano I crackers della Doriano sono i top del top Signori Certo ve le sono Quelli rossi No questi qua sono marroni Apriamo questo pacchetto Ok Italia Asa Enter Dmarco 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 Ah Vedi Leao come dice Spostati a Dmarco Questa è una premonizione raga Questo è il gioco Che ti parla E' il giocatore del Milan Che ti sposta Il giocatore dell'Inter Perché a Milano C'è una e una sola squadra Ed è L'Assago Vedi Ci ha detto pure Sì Leao No il Monza è a Monza Cazzo c'entra Monza con Milano Monza è Monza Milano è Milano Signori quanto finisce il derby Milan-Inter Signori quanto finisce Milan-Inter Voglio un risultato esatto E intanto sotto vediamo Oh Attenzione Enzo Mask Enzo Mer Mi avvalgo della facoltà di non rispondere Oh De se è lì in prestito Tutta la promo scam Gli ha dato Ma è sempre così ormai sto pacchetto Veric No Ajit Veric Un rigore di Cialanoglu al novantesimo Oh Belli vi dice Deselli Prenderò Lampard Molto bene Allora Signor ve le suono Io la ringrazio Vado un attimo a controllarla Il club Perché se non erro la sua squadra Eh me la ricordo Allora Mi perdoni Mi perdoni Signor ve le suono Lei come cazzo gliele fa a suonare agli avversari Con Asensio Da E Danjuma Io le voglio immensamente bene Ma Mi chiedo come mai Lei abbia Voluto disintegrarsi le palle Giocando con Asensio Scusami Questo Ecco Tolga sto Danjuma Faccia così Faccia così Ma in realtà ti dico di fare anche così Fanno il suono delle campane Warrior Ma come c'hai Haaland qua Au ma sto Haaland Mi faceva triggerare Quero in squad battles Asensio Molto bene Madonna sto Klyvert Perché hai comprato Klyvert Ha 88.000 crediti E l'hai pure usato per 51 partite Ciao Fabio Ve le suono Lì hai l'asiatica Per prendere Xavi Alonzo Chi è l'asiatica Questa Ma ma non si chiama più Sawa Si chiama l'asiatica Bravo No 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 Io credo che lui Tommy Tommy ve le suono Volesse proprio intendere Asiatica Squadra 120k Voglio vederla Ah faccio lo cazzo È la stessa Scusami Ho sbagliato È il T9 Dani Olmo Dani Olmo Per linkare Grimaldo Ho visto È un centro massale Ma probabilmente Te ne sei Ma poi vecchia In che divisione è? Perché volete sapere La divisione in cui sta? Sette Hai tre spagnoli Per l'obiettivo di Xavi Alonzo E tre di Premier Vabbè dai No ma scherzi a parte Signor ve le suono La squadra La squadra che avevo Che hai E non è male E non è male Questa qua Tommy A parte A parte gli scherzi A me non fa impazzire molto Questa Stanway Nel senso che è piccolina Le stazzo ce le ha Ma C'è di meglio Secondo me Hai detto Xavi Alonzo Beh c'è pure sto Island che è male Pure Non fa Però ovviamente Ormai 4-3 Enzomer Ma il resto Bene o male ci sta Allora La ringrazio Signor ve le suono E andiamo da Banni Natasha Ombra Lost Boss Hai visto il problema De tre corpi Ho visto Le prime due o tre puntate Se non mi sbaglio Ok Va bene va bene Ve le suono bello Tanto adesso con i tots Ah abbiamo anche Questi pacchettozzi qui Andiamo prima Da quello Da 500 FC points Per la signorina Padillac Sì 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 A me piacciono Questo tipo di A me piacciono Questo tipo di Di serie così Ma quello che vi chiedo Senza farmi spoiler È Una È una sola stagione O ci saranno Altre stagioni Forse venerdì Di Santiago Non un top Ma sicuramente Più forte di saliva Eh io so Io so che Viene da Io non lo conoscevo Non vi devo dire la verità Non la conoscevo So che viene da un libro E ho letto che hanno Sminchiato Ah bello Lampard Hanno sminchiato Un po' di cose Mai vista La prima La poteglia a Storo Sai che hai ragione Sodden Supersex L'ho vista A caso Ho partecipato Anche come Nel cast Diciamo Ecco Ci avete presente Scarta i doppioni Ci avete presente Quella scena Di Supersex Dove lui sceglie Dove lui scende Dalla fontana Nudo Ero io No Fa sole Guarda come vuoi bannare Questo cocco 21 Per cortesia Esatto Io sono la fontana Esattamente Grazie Ciao cocco Insegna agli angeli Ad aprire le noci di cocco Con la testa Come Cici Mi consigli Gullit O Bommati Eh Gullit Ci saranno altre stagioni Quella attuale Rappresenta il primo libro E pezzi del secondo E del terzo Ma ce n'è da raccontare ancora Miglior difensore centrale Rapporto qualità prezzo Van Dijk Base E sono maledettamente serio Molto bene Badillac Scusa Mi guardi La squadra Cioè immaginate Badillac Che mi chiede Consigli Squadra in live Devo mettere Posso riscattarli Ah Ah Si è fatta Lovaren Gusti singolari Lampard al posto Di Reinders Sennò io lo consiglierei Mai Chilo Lampard Fa veramente Cacare Sai che potresti fare? Sblocca di quel Chabi Alonso Negli obiettivi E lo metti qua Al posto di Reinders C'è la Lovaren Che si mette qua Al posto di Adama Sblocca di quel Chabi Alonso E ce lo metti Al posto di Reinders Qua Meno forte di Gino Molto più divertente Hai fatto bene Ci può stare Questa Adama È troppo forte Raga Rotto in culo Pesantemente Questo qua Allora qua Sull'account di Badillac 260 partite 150 goal E 200 assist Qual è il devasto Badillac Sì Jenny Decisamente Molto bene Badillac Io la ringrazio Per questo Magnifico contenuto Che lei ci Provvede Ogni giorno Il gradatore Lei c'aveva altri Contenuti Vialli Non lo uso No Ai Berbadov e Vampersi Che sono più forti Di Vialli No Ah ok ok E allora signori È arrivato quel momento Della giornata Abbiamo una weekend league Magicamente da finire E voi rimarrete in chat A tifare E a vedere me Che Perderò tutte le partite Perché sono stanco E non ho assolutamente Voglia di finire La weekend league Di lunedì sera Contro Checco09 Sul suo Diciottesimo Account Jenny Telegram È solo per gli abbonati Se volete Potete scrivermi Su Instagram Però Non vi rispondo Instant Su Instagram Ci possono volere Anche dei giorni Oh Abbiamo nove partite Madonna mia Ragazzi Allora 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 Vai Ciabbi è negli obiettivi Vadilac C'è un obiettivo Che ti dà Ciabbi Alonso Raps Giochiamo contro Gian De Goat Signori Sperando in qualche regalo E qualche quit Veloce Da parte degli avversari Benissimo Vediamo un po' Eccolo qua Primo col subito Perfetto La musica Non la metto Da qualche mese Su Instagram Signor Mamed Perché Su Instagram Su Twitch Perché stream Anche su YouTube Se rigioco Io vai Ho già finito Tutto per la settimana La mia Weekend League C'è la Weekend League Di Max Che forte Questo Drogba Comunque Veramente Troppo 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 Forte Costa 300k 300k Uno degli attaccanti Più forti del gioco E non sto scherzando Bravo Chouameni Dentro a Gollet La palla è per Cantona Prova Drogba Socrates Recupera il pallone Drogba Di nuovo Cantona Gira per Gollet Squadra A VL manco Se me pagate Ah no A VL a pagamento La fanno I fantomatici Pro Playa Gollet Gollet Vuole un bel Tiro a giro Da qui Ho caricato Troppo Motore Shortino Ma Fabio Ma si Cioè ci può Staccare Considere che Considere che Il Molo compri Domani costa 50k E meno Dopo domani 70 Capri Ehm Ci sta per provartelo Ti fai magari qualche raio Alza se capi E poi lo Lo fiondi E' sicuro E' diverso da Cantona E' Cantona è come se Devi considerarlo Come se fosse una specie Paragonato a Paragonato a Drogba E' come se fosse un CoC E Drogba La prima punta Capri? Cantona Può fare la Prima punta Ma Drogba Non può fare il CoC Drogba Ho usato Di doppi passi Di ignoranza Mamma mia Come sto Difendendo male Punta Scala di Inserimenti Spazio Doppio 81 Pensavo fosse Aller Dall'animazione Ah molto bene Perché giustamente Ma esattamente Io perché Ho startato Questa Weekend Liga Adesso Sto giocando Ve lo giuro Sto facendo Una squad battle La migliore SBC Allora Io credo Che le migliori SBC Siano Allora Partiamo da Partiamo dal portiere Facciamole per ruolo Le SBC Lloris Sicuramente E Schmeichel Poi Come difensori Allora Te dico Single Per gli upgrade Saliba Menzione Per quanto Costasse Tanto Era comunque Forte Qualc'altro Difensore Centrale Che in questo Buongiorno Buongiorno Ciao Saber Credo Venerdì G8 Akanji Avers Udoggie Bastoni Blanca Inizio Gioco Ho letto L'altro giorno Una storia Di Chuboi Se non mi sbaglio Che Nel mese Di marzo Sono uscite 58 58 O 68 SBC Giocatori Una media Una media di Due Due SBC Al giorno Stiamo parlando Delle migliori SBC Uscite Durante Quest'anno A centrocampo Poi ci metto Sicuramente De Jong Sicuro Proprio Ci metto Chouameni La Sawa Ce la devo mettere Per quanto a me Non abbia fatto Impazzire Bruno Fernandez Violente Una Evo La Rolfo Di Balapotomi Il secondo Sì Però Non è una Non è una Delle migliori SBC Del gioco Cioè Nel senso Non è che se l'è fatto Tutto il database Una Sawa Esatto Da Jong Tuono Oddio è vero Best Dodi Sì Best Dodi Assolutamente Best Dodi è quello Che mi ha fatto Mi è piaciuto Di più E mi ha fatto Bestemmiare L'unica card Che mi ha fatto Bestemmiare E godere Allo stesso modo Prima uno E poi l'altro La Rolf Vabbè La Rolf È la regina Delle regine Mbappé Potomi Il primo Perché con un po' di sacrificio Mbappé meglio De base a novembre Forse più il secondo Del primo Perché Il secondo Mbappé È arrivato subito Di fila A quell'altro E alla fine Un mese in più Un mese in meno Rodrigo Inizio gioco Sì Il trailblazer Di Rodrigo Pure non era male Assolutamente Sono d'accordo Ma lo pensavo Che era l'arbitro Quello Il primo Stava a 5 milioni Il secondo Stava a 3 milioni Socrates Uff Messi Totti Garantino Socrates Gino La È Socrates Qualsiasi domanda Dove c'è Socrates Sempre Socrates Banana Prima sbd L'avrei voluto fare È Werner Bessimmi Lo becco L'unica volta Da cancellare La mia vita È Gino La Mamma mia ragazzi Questo Bel try Cioè Questo non è bravo Capi Guarda quel Chiuamani Che piovra Davies Flashback No Non è una delle migliori SBC del gioco Perché Davies Flashback Alla fine Costava tanto Ed è canadese Della Bondes Anche Werner Anche Werner Sì C'è da dire Che È rognoso Assolutamente Eh lo dico Rodrigo Trailblazer Forse ti fece cagare Perché era inizio Gioco E quindi non sapevamo Bene il meta Sve ste robe così Alla fine Farlo o non farlo Sarebbe cambiato poco Io non lo feci Tra l'altro Quel Rodrigo Trailblazer Sul mio account Perché io feci La prima SBC del gioco Che era The Bruin Flashback Son Potom Madonna Giotto Son Potom Ragazzi Son Potom È stato l'emblema Del Son Potom È stato l'emblema D'inizio gioco Regà Non ti segui Ancora L'ho fatto a schiovere Rodrigo l'ho buttato In SBC Guarda se era Dario Apre i tozzi Aspetto Apre per Socrates Apre li per Socrates Eusebio Allora Per chi usa Eusebio Ragazzi Vi chiedo Ma Ce la fate ancora Ad utilizzarlo Parlo Della SBC Di Eusebio Centurion Che uscì Il secondo mese Di gioco Devi Invertire i centrocampisti G&J Oppure usare Gli stili Intesa Per cambiare La lettura Difensiva Adesso No Troppo Meccanico Sebbio è il top Conto Tra i yarder Impazzisco Mi distruggono Ma i try yarder Ragazzi Come questo Questo non è bravo Cioè devi stare Concentrato Capito Perché sennò Questo ti fa Tutte le Però io non c'ho Voglia Cioè come te devo dire A parte che sono Stanchissimo Mamma mia Quella palestra Mi ha sfiancato Oggi pomeriggio No perché mi piace Cambiare tanto Aprile adesso Per fare Socrates Mi ha dato il pollo? Ah sì Sì Non lo Non lo Non lo Non lo fate Scotto Polerdese È lì Coppia dc Troppo pesante No va bene Ma quest'anno Dc pesanti Vanno usati Ce ne capi Giocare contro Questo qua Ma forza King Ma io le voglio Bene Ma te posso Mai dì Da sbloccare Under Ragazzi Una carta Io bene Facciamole qualcosa In autonomia Non lo so Avolo Avolo Avete Due Mi pare Ho una sola E ho trovato Abbiamo trovato L'icon Petino Un paio L'abbiamo aperto Niente di particolarmente Incredibile Niente Quando vuoi Jenny E va bene Che gioia A giocare Questa modalità Fantastica Il lunedì sera No In signa Napoli Sì Anche secondo me Venerdì escono I warm up A breve o sempre Mi arriva a mille game A me quest'anno L'unico che mi è arrivato A mille game È stato Llorente Se non mi sbaglio Oh no No Manca un bappé Manca un bappé Ho giocato pochissimo Quest'anno Ho giocato veramente poco Io sul mio account Quest'anno Mamma mia Già vi basta pensare Che io praticamente Per tre season Da inizio anno Non ho fatto più di Quindici partite Sul mio account In rivals E niente Io manco Li ho fatti Mille game Schmeichel Il 1.6 Giopetro Il 1.4 Sì Ben giocato Allo stesso Roma Ma molto differente Ma è una lese Differente Sì certo Perché dipende Da come tu lo vai Da come tu lo vai A selezionare A giocare Ad utilizzare E come si impiega All'interno Del meccanismo di squadra Magari tu Nel 4-2-2-2 Lo cerchi di meno O di più Rispetto a un altro modulo Certo Sì assolutamente Magari Nel 4-2-3-1 Per dire Stai Ce l'hai Più centrale Quindi dato che è grosso Fai più fatica A servirlo Magari nel 4-2-2-2 Che è più largo Ha più spazio di corsa Tomba Per 1700 Partite Io credo di aver giocato Quasi di più da max Che sul mio account Quest'anno Il tuo giocatore Con più presenza È Tevez 250 partite Vabbè ma ci sta Ci sta Ci sta che non Qualcuno gioca Un po' di meno Che bel match Ragazzi Questo di esordio Per questa weekend league Di stasera Ve lo giuro Mi sono veramente divertito Probabilmente partono I I warm up Tots Ovvero Una promo Di avvicinamento Ai Tots Credo Non c'è nessuna Nessuna informazione Ufficiale 15 migliori di Gullit Quale Gullit Del Centurion Ma anche Chumani È più forte Del Centurion Di Di Gullit C'è Ovviamente C'è Vieram Ma perché Tiri così E non di testa Si può farlo Ma secondo me La cangia e il bastone Sono ancora un poco Più forti Siros Certo Command Piuttosto che Kane Todi No Avrei preso Kane Todi Per overall Certino Puoi scrivere Anche in italiano Qua Lo so che lo stai Spammando A tutte le chat Attive di Ultimate Team Adesso Probabilmente Dimmi Castano È male Bell'argento radioattivo Che consigliate Purtroppo Nessuno Tanto Entrambi Ingiocabili Dai Sì Vabbè Ma quei pick Di quei pick Manco Le so Quali sono Le card Giocabili Di quel pick Stiamo Inviando Pick Icon Nascondino Va bene Ruopolo Gardens Ci azzeccano I Giardini Attivi A Ruopolo Vedete che Alessio Trova R9 Foti No Raga Comunque No Non voglio Giocare Più Magari Me la gioco Off stream Ma non C'ho Poglia Di giocare In live Lo giuro Mi fanno Scendere Una noia Mortale Questi Eh solda Ma io come Tu leggo Quel messaggio Bello De casa Sta scritto Nel codice Delle leggi Di Hammurabi Quel messaggio Allora Fasce In modo Da due Mi 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 Ho un problema Stavo riscattando Insigno Ma non mi fa cliccare Per vedere quale C'è Opzione 1 Dani È l'opzione 1 Punta secca Meglio la poteia Sto Berbatov Berbatov Il lunedì È il peggior giorno Per giocare la weekend league Ragazzi Leggi di Hammurab Qua siamo acculturati Oh Vai Scolami Scolami Straziami Scolami Errenov Compresa la Rolfo Che diventerà una super sub 100% Per me 8, 9, 11 Delle squadre vostre Cambieranno Cambieranno Quei Dodds Buonasera Vitto A vuole con Kavu Ho visto che avevo Il base della clamor Lo sono di dire che è fortissimo A fine vuole l'ho venduto Perché era risalito E ci ho fatto 500k di profit Poi però sono Riuscito a snaverare Zambrotta Ci sta a lasciare Zambrotta A TD A gratis Piuttosto che spendere Un minuto A avere un terzino Assolutamente Sì Lascia Zambrotta Sì l'ho provato Caganovo Ma vi faccio uscire Pure il Cioè ve lo scrivo In chat Vi faccio il comando In chat È molto forte Tie tie Scolami Santu Ma che è bastato Mbappettoti Eh R9 Toti Ma no Ho firmato Diazera Solo per il titolo Della live Per scriverlo Eh Questo è R9 Toti Raga Ma guarda Signor Alessio Io Non ho bisogno Assolutamente Di Nulla No no Sono in prestito Mi Nascondino Tiedi Nascondiamolo Tiedi Eccoci qua Stai meglio così Grazie Eccoci qua R9 Spagnolo Ve lo lascio ammirare Un altro po' Vedi come ci manda un bacino Raul Altro che Padelac Non si sa nulla Pash Non sappiamo ancora nulla Non abbiamo nessun tipo di informazione Sì Escono sempre gli stessi Sono d'accordo Molto bene Signor Alessio Io la ringrazio Per questa Icons Sì 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 Soluzione Prova il 4-5-1 Con i due C-O-C No ma infatti Si risolta Mamma mia Veramente Dai dai Riproviamoci Con sta Weekend League Dai Vediamo Vediamo un po' Grazie mille Alessio Per il suo Grosso Grosso Picchettino Natalizio Sono sorpreso Che sul 24 Non sia uscito Natal Ma perché Fuori Metal Se vedi Stanno uscendo I Socrates I Ginola I Berbadov I Cantona I Gruos Non si vedeva Una card Utilizzabile Di Vampersi Da Boh Ti fa 17 Molto bene La regola Cacà Ma come fa Abbiamo inviato Un'immagine Cacà Ehi Abbi pazienza Ma così Non te la riesco Non ti riesco A dare un consiglio Non so Non mi ricordo Tutti i ruoli Secondari Di tutti quanti Il consiglio Che ti do È quello Di provare Provarli tu I I moduli Abbi pazienza No Il nome È DVCE È un acronimo Per dire Difficile Vincere Con Eusebio Era quello Era quello Era un acronimo Non era assolutamente Quello che pensate voi Poveri Illusi Nostalgici Ve posso dire Ve posso dire Ma sta lasciando il meme Sapete a me Non mi fa impazzire Forse già l'ho detto Non è Non sono molto Non sono molto pro A questo tipo di meme Lo sapete Ci scherzo Perché per carità Ci mancherebbe Altro Però non sono molto Eh capi Non Ci sta a scherzare Perché figurati Ci mancherebbe Altro Però ci sta Chi poi Veramente Lo 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 pensa Davvero Io ho trovato Lampard Pensavo peggio Giocavo ancora Con Bergam Winter Beh giocare col Bergam Winter È decisamente Convertiti O verrai Schiacciato Ma se mi schiaccia Padillac Potrei farci Un pensierino Sta partita è durata Meno della Supercoppa Turca Dovrebbero essere Tutte così Le partite Mi credi Capisco Anche perché Magari adesso Quante persone Prendono come me Poi io Ci scherzo Ma perché sono così Ma io lo so Che lo so Lo so che Lo so che ci scherzi Io sto al gioco Però ci sta Veramente Gente Cioè ci sta Un ritorno Non Non buono Secondo me A questo Ciao Snappoman Sei un fan Di Undeur Com'è È Molto forte Hamburger SC Da Hamd Maguire Potom Virz E allora Lunedì sera Poi si incontrano Anche queste squadre qua Che queste squadre Sono per forza Degli accanti Secondari Eh no Vabbè Ci sta Figurale Luca Se tu lo preferivi Va bene così Undeur La hidden gem dell'anno Bra 5-4 Doppio playstyle Una rosa 81 Capito Muchas gracias Van der Star Con la numero 8 Mamma mia che bella Questa fetta di pollo Raga Colosius Ciao Rava Andiamo a giocare La weekend 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 Hai problemi sul gioco Finisco le partite E mi butta fuori D'altimenti Ma hai quittato Tante partite di fila Rava Sei stato Soft bannato Molto probabilmente Devi Ma come calcio Di rigore Devi aspettare 24 ore No non quitto mai E devi aspettare 24 ore Perché probabilmente Sei stato soft bannato Per qualche azione Di gay compi Che hai fatto E' il forno O venerdì O venerdì prossimo E' un no lost glitch Ah beh Il no lost glitch Ci sta quest'anno Ma in realtà C'è sempre Tutti gli anni C'è il no lost glitch Non c'è Non c'è mai un anno Dove il no lost glitch Non c'è Foggevano il 26 No in realtà Non lo sa nessuno E' il forno Chi ti dice in una data Ti sta prendendo in giro Pollo Beato Dio stasera Yogurt Ma come yogurt Sodvan Ma non era fuori gioco Scusami Me l'ha contato il gol Pensavo fosse fuori gioco Sì Lollo Ti faccio un bel Mi fai Ti fai un bel wrap Ma allora Io sai che mi voglio mangiare Un bel kebab Me lo sai C'è un po' voglia di mangiare Però è un kebab Buono Io credo che li dovrebbero mettere Il forno Ma non è vero che non sta giocando Più nessuno Bello mio Sta giocando un sacco di gente Madonna Drogba Pom Non è vera quella cosa che hai letto in giro Il forno Quella Quella statistica che hai letto Che si girava sui social Qualche Qualche settimana fa Non era vera Vabbè Vabbè Basta Non ti leggo più Senti Drogba Motore Un kebab buono A Salerno Di fronte alla spiaggia di Santa Teresa Consegnatissimo Migliore Ma mangiarlo in quattro continenti Eh ma da mo' a Salerno Da qua a Salerno Quando mi muovo io Forse in questi giorni Vedo di andare Al campania Magari Forse No domani non credo No domani no Forse Mercoledì Se qualcuno viene Mercoledì mattina Al campania Ma cazzo che Mi trova Mi trova Probabilmente pure A denudarmi Perché mi devo provare Dei vestiti Tu hai la patente Ah voi che c'ho la patente No ma non sto guidando Per una questione Familiare Ah che c'ho la patente Io sono anche un gigantesco Appassionato di automobili È stata una delle prime cose Che ho fatto Appena Ho compiuto 18 anni Il problema è che qua Purtroppo Tra tante cose Che succedono Nella mia giornata E nella mia città Non vale Non vale più la pena Scendere con la macchina Uscire con la macchina È un suicidio Punto scala di USN Nel forno Mi sono letteralmente Innamorato di Digno Ma Digno Digno ti fa innamorare Bene Va bene È il forno Velo da casa Ma lei È venuto in questa chat Per rompere i coglioni Oppure vuole fare L'utente intelligente Cioè lei è venuto in questa chat Per dire Che gioco di merda Digno non corre Questo non è Puoi andare da un'altra parte Per favore Non ti fa bannare Cambia streamer Vai a vedere quelli Che leccano i microfoni Esci dai Esci da solo Non te voglio in live Start o rivals Mette pausa Faccio 1 a 0 Mette pausa Fa 1 a 1 Passa al portiere Spazza pausa E quitta Allora solda Ti dico Allora non mi ricordo Qual è la patente Che non Non so se è cambiato Ehm Qual è la patente Che non Poi non hai bisogno A 18 anni Di rifare il corso teorico La 125 O la 150 Mi pare la 125 Esatto Allora falla la 125 Io sbagliai Sbagliai Perché facendoti la 125 Poi Quando arrivi a 18 anni Non hai bisogno Di rifarti il corso Il corso Teorico Capito E quindi ti puoi Puoi direttamente Puoi direttamente Andare Appena hai 18 anni Ti puoi già mettere A fare il pratico Capito E ammazzi Un botto i tempi Quindi Ti consiglio Di fare la 125 Sì assolutamente Mi pentì io Di non averla fatta E dissi Che io non la sapevo Sta roba Ehm Mi dissi Oh cazzo Ho perso 3 mesi Per fare un corso Perché ovviamente Lo devo fare Il corso teorico Eh sì Lore Ehm A parte che il forno Il forno l'hai messo 5 minuti fa Bello mio Dai esci Ah per cortesia Dai non rompere il cazzo E vattene Dai su Sei un tossico di merda Non sei capace A stare in una chat Di ultimate team Vattene ah per favore Stammo giocando Tanto tranquilli Ci stammo facendo Le cazze le nostre Non c'è scasso Le cazze Dai per favore Dopo che appena Fatti 18 anni Il giorno Andai a fare la richiesta Per il foglio rosa Vabbè Vabbè Potete solo immaginare Da quali streamer Va Questo coglioncello Vabbè Hai avuto la tua opportunità Eccoci qua Arrivederci Perfetto Ricordi Ritorniamo a noi Il cotana 3 È una truffa Sì Sono stati abbastanza Una truffa L'ho aggredito No Marco Ti prego Non ti ci metterei Anche tu Per cortesia La vespa Non so se cambiala Col 125 O no No allora Comprare Comprare un altro Mezzo di cilindrata Dal 50 Al 125 Non te lo consiglio Cambia un cazzo Fare il corso Della patente Sì Ma comprare un mezzo Passare dal 50 Al 125 Non te lo consiglio Se proprio devi fare L'upgrade Passa dal 50 Al 150 Perché se non mi sbaglio Tra qualche Non so Tra qualche tempo Non so Messe Settimane I 150 Potranno Ah no ma aspetta Però aspetta Ma se non mi sbaglio I 125 Potranno andare Anche in autostrada Se guidati Da un maggiorenne Giusto No adesso E dai 150 Dai Ora E dai 150 In su Attualmente Però Stanno 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 Vogliono Cambiare Ora Già possono Andare Vogliono Fare La legge Che dai 125 In su Se guidati Da maggiorenne Possono andare In 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 autostrada Sì Davide Certo Mi prendo Tra Ramirez E McMahon Ramirez La 2 Quella del 150 Se non mi sbaglio La 1 E invece Quella No non mi ricordo Ma non mi ricordo L'anno scorso Mi presi la patente A gennaio Comprare la mia prima moto Che ha una Honda CBR 600 di cilindrata A me le moto Non fanno impazzire Lo sapete Sono innamorato Dell'automobile Ma le moto Non mi fanno impazzire Non lo so perché Lo sai Semplicemente Forse da bambino Non sono mai stato Boh Sai altre anche cose Che le moto Fanno un botto Di rumore E Magari da bambino Mi davano fastidio E poi bisogna Prendere la 3 No patente A No la 3 La patente A Per guidare Da tutte le cilindrate Di moto Giusto Roberto Calo Se non è meglio Venderlo Per prendere Altro Oppure lo tengo Fino ai tozzo Ancora 400k Io lo venderei Lo venderei E arrivederci Tenere dei crediti Fermi Su un terzino Prima dei tozzo Veramente Non ha Tantissimo senso È proprio quello Il bello Le sgasate Eh lo so Però io Non sono molto D'accordo Su queste cose Considera che io Abito in un centro Città E mi danno Un fastidio Incredibile Perché capì Come se abitassero Da soli Niente Le sgasate Si fanno in pista Regà Ho fatto due Due incidenti Con il motorino Poi ho smesso Allora Ho fatto un incidente Con la macchina Brutto 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 Regà Meno male Che non mi so Fatto niente C'era Per un passeggero E se faceva male Il passeggero Porca miseria Regà Era la fine Ve lo giuro Probabilmente Boh Però non era Un periodo Molto bello Ma non so Immaginare Che avrei fatto Se mi fossi fatto Male da stare Allettato Se avessi fatto male A qualcuno Non lo direi mai Ma a sinistra Ti puoi prendere pure Teo If Veramente Un qualsiasi terzino Va bene Ti puoi provare A sniperare Zambrotta E ti fai la Evo Che comunque Sono 240 mila Crediti Secondo giorno Che andavi In moto A imboccarsi L'autostrada Molto bene No Ma guidare a Napoli Alla fine Non è manco Così traumatico Come lo fanno Come lo Lo dicono In giro È È una di quelle Situazioni in cui Nel caos Totale C'è ordine Capì Nel caos Della Della città Alla fine C'è C'ha il suo ordine È peggio guidare a Torino Non l'ho mai guidato a Torino Un posto dove Secondo me È molto difficile guidare È la Grecia Sì La Grecia Mi ha dato Delle vibes Molto 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 In macchina Pesanti Eh sì Vai Sabato non tanto Però ognuno fa Quello che cazzo gli pare Ma in questa città Un po' tutti fanno Quello che il cazzo gli pare No per esempio No vabbè Non voglio rimettere Al commento Vabbè Il fatto che Giri senza casco È la cosa meno peggio Maron un eroe Maron un eroe Maron un eroe Che ci regala la partita Adavadavai Maron Grazie bro Arrivò a 11 E poi le regalo Tutte quante Pure io Dai 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 Manca l'ultima win Dai Sono io con il Ventitresimo account Non credo Maria Io in Grecia Ci sono stato Tre anni E un anno Ci sono stato Tre mesi Molto bene Non credo Maria Non credo Che buono Questo pollo Raga Dopo devo chiamare In ospedale Per farmi una bella Tracheotomia Ho fatto 11 con 3 le gare Mi hanno provato Con Vici Nei Vic Savastano FC 5 ore Come svolta Mbappé Ma come Savastano FC Salvatore Non è d'accordo Con Cannavaro Capitano Non farlo arrabbiare Vabbè Ma tanto io conosco Il vero Salvatore Conosco il vero Savastano Questi ci fanno Ci fanno I grattini Nel sottopalla Ma perché di piedi È moccacchita morta Se è un mio campo È un mio campo Paesano di Aosta No ad Aosta Siamo Sono da solo Che Cioè io e mio fratello Che giochiamo Ad Ultimate Team Siamo gli unici due Che giochiamo Ad Ultimate Team In tutta la In tutta la val d'Aosta In tutta la val d'Aosta Però Quel portiere Dove cazzo Ti ho portato A raccogliere i funghi A raccogliere i tartufi Poi i tartufi Mamma mia Regà Estate del 2020 Torno da Malta Vado a Roccaraso Una settimana Mi sono speso Tutto quello Che avevo guadagnato A Malta In macelleria Tutto Ve lo giuro Regà Tutto Per hamburger Con i funghi Hamburger Con i funghi dentro Hamburger Con i tartufi Salami Ignoranti Che buono Mamma mia la carne Regà ve lo giuro Mi piace troppo Il bacio l'hai Ha fatto festa Sì Poi era sempre Lo stesso Hai fatto bene Mamma mia regà Te lo ve lo giuro Mi sono speso Tutto quello Che avevo Una settimana di Una settimana di Roccaraso 10 giorni Mi sono speso Tutto Quello che ho guadagnato Da Malta Tutto Mi saranno rimasti Tipo 50 euro Ok Allora signori Se qualcuno di voi Sta facendo La weekend league Adesso regalerò Tre partite No no Era agosto Era agosto Sto facendo La week Sto regalando Le partite Di weekend league Quindi se qualcuno Le vuole Regalerò Tre partite Adesso Faccio anche Il countdown Per quando premere Start insieme Forse venerdì O venerdì prossimo Arrivo Davide Finisco queste tre partite Arrivo 105 minuti 5 4 3 2 1 Vai Santos giveaway Non c'è bisogno che Non c'è bisogno che Le regalo La mia chat Mi batte Hai ragione FC Lattachia Punto scavativo Cantona Amedeo C'è Sul video Sia su tiktok Sia su ig Sia su youtube Amir Degoat Ciao reggio Buona Buona serata No Gullo Non Gullo Non 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 è Ancora nel gioco Avremo questi picchettini Della VL Alla ricerca di qualche Sculacchiata Incredibile E poi Ci salutiamo Ci abbiamo Davide che c'ha un party Una festa Molto bene Gepp L'anno prossimo Hai con Ufficiale Nel basileo C'è uno che si chiama Gullo Io conosco solo Gullit Oddio Questo c'ha RTG nel nome Sono tentato Dal non Regalargliela No Giuro che non L'ho fatto Apposta Ti piacciono I fisica C'è Più fisica Quelli più Più grossi Ronaldinho Se no Se no Gersinho È il destino Che volevo Non gliela regalo Road to glory All'anime Che da morta Take five Road to glory No no Lo so chi è Gullo Certo Vitto No Ale Secondo me No Va bene Davide Dimmi tutto Vitto Po forza I'm Sui miei video Youtube Youtube No Vitto Dai Su Youtube Raga Su Youtube Dovete Stare là Guardarveli Di sottofondo No Mica me Triggero Però Youtube È fatto così Very long form Anzi Mo vi ho messo Anche dei video Corti su Youtube 3 minuti 5 minuti Non vi sto manco più Registrando i video Su Youtube Dalla live Ok Quindi sono fatti Ad hoc Capri Olè Ma come zitta Padilla Capito Ma come C'è stanno Le menzioni Qua dentro Ma in che senso Come le menzioni Toti Qua dentro Vabbè Grandi pic Della Weekend League Allora Vado un attimo Da Davidone Ringraziamo Come sempre Il buon Max Etiello Per questa Magica VL Toto Kane Allora Vediamo un po' Che ci abbiamo Ah Davide e Luca Allora Vediamo da Davide Cosa ci abbiamo E poi andiamo da Luca Qualità 2K Webcam Notturna Visione notturna LED da infrarossi Oh wow La voglio No vai tranquillo Davide Vada tranquillo Ormai è invecchiato E non triggera più Ah ma La cosa Non ti preoccupare Non ti preoccupare Ti avrebbe Ti avrebbe Sospeso Per più tempo Vai David Invitami pure Punta scantico PSN Devi Ma si Pep E abbiamo appena Finito la tua VL Max Abbiamo fatto 11 E poi ci siamo Abbiamo regalato I Abbiamo regalato I match E zompato Davide Io mi accorcio A me non fa A me non piace Molto in realtà Come 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 concept Di Di È un meme Ed è divertente Ma come concept No Da creator Ti dico che È una roba Orribile A me Pensa che Magari uno fa Pensa che Ok ok Luca No niente Max Pensa che uno Ci spende 2 3 4 ore Per registrare Montare Eccetera Eccetera Arriva sto coglione Che dice Butta Butta 3 ore di lavoro Perché C'ha l'ADHD Dai È una mancanza Di rispetto Incredibile Però non mi devi invitare La richiesta D'amicizia David Mi devi invitare Solo il party 3-4 ore di lavoro Buttate così Ma perché Moi molto spesso Alcune volte Sono da contestualizzare Le cose Che vuole questo Che mi ha taggato Qua No Su come dice le cose Sì Vi figura Di meme È divertente Ci mancherebbe altro Però Non deve diventare Una cosa Cioè Stiamo facendo Di tutto Per farvi mantenere L'attenzione alta Per tanto tempo Arriva sto coglione Che ci rovina Tutto quanto Eh no Eh che ti devo dire qua Sì Andrea Eh sculato Sì Hai sculacchiato Sì Vedete che belle squadre Che sono uscite Con sti golaso Inutile Strogonimus Non si sa Flex Ma in generale È un fenomeno Che va eliminato Vitto Stiamo veramente Facendo di tutto Pur di Pur di Farvi tenere L'attenzione alta E Arriva questo E ci distrugge tutto Rise per Zidane Esposto Vare scacceci Potresti provare Però Vai a Rendere la squadra Più difensiva Prova Let's go Droppa c'è Droppa c'è Droppa c'è Un bel pack Oh Yey Che faccio Scarto Dimmi tu poi Luca E quando ci sei Che arrivo da te Sì Ok Doppio 83 Let's go Spagna Bel Morata No Sì certo Vitto Ci mancherebbe altro Però Non è che noi facciamo video Di 15 minuti Su TikTok Quello accorcia video Pure di un minuto Un minuto e mezzo Tre minuti Guarda che Io facevo dei video Di 15 secondi Prima Passare Da fare A video di 15 secondi A video di Un minuto A fare video Anche di 5 minuti Poi non è vero Che TikTok Non è Non è cambiato Il pubblico di TikTok È diverso Adesso Vabbè La squadra Dai È giocabile C'hai Cazzo Girola Primo proprietario Devi cambiare Solo sto Yaya Touré E Aghi Il centrocampo Mi fa un po' schifo È futre poi In realtà Però Sì 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 Vitto Sì il pubblico È cambiato Te l'assicuro Chi è rimasto Tale Sono i vecchi Te lo dico Proprio apertamente Chi vuole le cose Così Sono i vecchi Non ci sta niente Da fare Sì dai Davide La squadra Non è male La ringrazio Signor David Devi cambiare Solo quei due Centrocampissima Vai tranquillo Che moco i toz Hai voglia Di quanta roba Cambi Allora Vabbè Rashford Sì però Diciamo Non è la priorità Luca Oh no Ho eliminato Il party di Luca Orginola scambiabile È da cambiare Con vampersi Per salvare Un po' di credit Sì lo farei Tutta la vita Luca Ci sono quasi Ok vediamo Io posso fare Sul mio account Qua Vediamo se ci sta Qualcosa di simpatico Anche se Allora io mi sono Mangiato Sta fettina di pollo No ma io Ho una fame Incredibile Ma che me devo Mangiare vicino Era la evoluzione Quella che gli dà il tiro Bomberrigano Ma non vale la pena Ciao iGamer Buonasera This is gonna be the best day of my life Un bel dolce No io sto facendo 15 giorni senza zucchero Regà Patatine fritte Giusto 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 Sto facendo 15 giorni Senza Senza zucchero Ordina su Just Eat Credo che mi andrò a fare Un Una fetta di pane Con la festa di tacchino Proviamoci la vita Eh lo so Io sono d'accordo Che il 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 cibo Seconda settimana Di promo Troppo di pacchi Bassissimo No Semplicemente Stiamo aprendo Meno pacchetti Broccoli In padella No ragazzi Non credo Di farmi Broccoli In padella Allora Mi faccio Il broccoli In padella Se mi droppa Drogba Da questo Pick Se mi droppa Drogba Da questo Pick Mi vado a mangiare Broccoli in padella E a me non piacciono I broccoli Ciao Mark Buonasera Radonjic Pedro Cirivella Paceco Giocheres E a me non piacciono I broccoli Più bell Eh Capita più belle Capita seraina Hai duplicato I miei santini Con la bet Senza zuccheri Senza zuccheri Senza zuccheri Aggiunti C'è Tipo Non mangio Cioccolata Non mangio Dolci Sa E se robe così Eccoci qua Raffaella Abbiamo trovato E più o meno La stessa cosa Di Drogba Sotto C'hanno La stessa roba Raffaella Leone Carvaglio Sousa Prima si chiamava Carlo No Io mangio Pochissima roba Crede Sta venendo Una delle mie Poche win del giorno Ma vai tranquillo Luca Invitami un attimo Al party Con eliminato La notifica Per sbaglio No Non ho visto Questo TikTok Orie Mi sono Informato Con un Nutrizionista I carbo Li mangio I carboidrati Li mangio Cioè mangio Tutto quanto Normale Semplicemente Sto cercando Di togliere Un attimo Io sono Golosissimo Di cioccolata Sto togliendo Un attimo Il cioccolato Lo zucchero Aggiunto Giorgio Santucci Patricio Garnaccio Vomeriegno Lo sto staccando David Mi apro Questo party Qua E Anche i carboidrati Sono zucchero Sto facendo Senza dolce Sto facendo Chetogeneica Che ha il 10% Di carboidrati Il resto sono Proteine e grassi No 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 Hai ragione Lo so che i carboidrati Sono zuccheri Lo so Lo so bene Lo so bene Che i carboidrati Sono zuccheri No Non sto facendo Una decada Chetone Voglio È proprio una cosa Mia personale Voglio Voglio un attimo Diminuire 10-15 giorni Così A me non mi costa Niente Voglio vedere Che risultati Ci ho Semplicemente Capì Eh ma il cioccolato Il cioccolato fondente Non mi piace Oddio lo sai che L'altro giorno Cioè tipo A pasto No 15 giorni fa Ho mangiato Dei cioccolatini Della Lind Fondenti Al 65% Mi sono piaciuti Scarta Garincio Coman Coman Come esterno Come Coc Meglio Garincio È solo una cosa Di testa E lo so Lo so che è solo Una cosa di testa Ma io sono troppo Coluso Regà E poi sono pure Del convinto Del fatto Che cazzo Ormai uno non può Fare più niente Nella Nella propria vita Cazzo Meno il mangiare Si è bloccato Luca Oddio Il fondente Ora sono arrivato Fino a 85 Eh esatto Esattamente Bye Dei cioccolatini Della Lind Quelli là Che uscivano Tipo dall'uovo di Pasqua Della Lind Fondente Porca Buonissimi No ma io No ma io Il cioccolato Non riuscirò Ma io sono troppo Coluso Mi piace troppo Il cioccolato Non potrei Eliminare Il cioccolato Al latte Solo per il cioccolato Fondente Vabbè Luca Ma ti dispiace Se facciamo Un altro giorno Seppure è bloccato Qua Eh lo so Rufo Poi per quelli Sono buoni Poi per quelli Sono buoni Poi l'uovo di Pasqua L'uovo di Pasqua È la Lind Probabilmente Siamo a quello Della Kinder Uno dei migliori Cioccolato Diciamo Duro Fuori E dentro Quella patina Di morbido Veramente buono Vabbè Allora Signor Luca Mi dispiace Un po' di pazienza Eh brava Iac Esattamente Signori Mangate una bella pizza Portafoglio Credimi Vorrei Allora Signori Io vi ringrazio Per aver Avermi fatto compagnia In queste due ore e mezza Di nulla Totale Cosmico Non so neanche io Stasera cosa ho fatto In live Veramente stasera Non ho idea Di che contenuto Abbiamo fatto In live Però vi ringrazio Nuovamente Perché Mesi fa Una serata del genere Non l'avrei mai portata avanti Ringraziamo il forno Che poi Non so se hai notato Ma è venuto con un altro account A riscrivere le stesse cose Ci vediamo domani 18.30 Come sempre Domani c'è pure la Champions League Se non mi sbaglio Quindi si gode Facciamo i nostri I nostri Prediction Le nostre prediction Vi voglio carichi Domani sera Che facciamo Facciamo le bettarelle Sulle partite E succederà esattamente Il contrario Signori Ci vediamo domani Io non mangio dolci Da un anno Ho levato la carta Da un anno e mezzo Non mangio pasta e pizza Da cinque mesi Vivo con pesce Per due legumi Solo le visioni di pizza E carbonava Io non ce la farei mai Rossi Buona serata Grazie a tutti